e tutti i bellissimi ricordi Maurizio scrive ah no i ricordi sono la gente la gente a volte mi attribuisce la capacità di avere memoria io non ho memoria io ho ricordi che sono due cose diverse vogliamo cominciare? vogliamo cominciare grazie e ve lo dico subito il tema è mal posto cioè mal posto etica e morale nell'epoca della fotografia chiamiamola dell'intelligenza artificiale sono 200 anni 180 che non cambia niente è inutile che ci poniamo ogni volta che c'è un momento una cosa e faccio due citazioni ogni tanto devo leggere c'è un signore che si chiama John Lawton 68 anni ai tempi in cui l'ha detto veterano del giornalismo a un convegno dell'associazione americana dei giornalisti radio televisivi nel 95 quindi con i miei studenti in università è un anno che non è esistito per loro il 1995 le guerre puniche sono insieme e lui dice l'ironia dell'era dell'informazione sta nella rinnovata rispettabilità attribuita all'opinione disinformata e il tema è questo il tema cos'è recentemente abbiamo visto tutti penso inutile che stiamo a richiamarle visivamente le foto le Trump false no? l'arresto di Trump eccetera eccetera oppure il Papa con il Monclero o comunque con una una cosa bianca addosso il problema non è se sia falso o non falso o vero eccetera il problema è che la gente ormai non guarda più niente non ha più tempo dedica tre secondi a un'osservazione e allora torniamo a Cipolla quando dice il libro bellissimo è le leggi fondamentali della stupidità il problema è la stupidità con cui si guardano le cose perché l'essenza delle cose tenendo conto e andiamo ancora più indietro 1856 quando Nadar che è sicuramente uno dei più grandi ritrattisti forse il più grande è curioso che nell'ottocentocinquanta se abbiamo già risolto il ritratto dice una cosa che sostiene che dice il ritocco a un tempo eccellente e detestabile apre una nuova era per la fotografia perché qual è il problema della fotografia? La fotografia è rappresentazione dovendo essere raffigurazione cioè deve necessariamente raffigurazione avere un soggetto avanti a sé lo deve interpretare ecco che diventa rappresentazione storicamente i casi clamorosi sono stati tanti se vogliamo cominciare con Roger Fenton la guerra in Crimea lui che fa la guerra in Crimea lui fotografa con l'odio umido quindi deve sviluppare subito possiamo definirla polaroidi in termini moderni ovvero lui scatta una foto la vede ed è ancora presente nel soggetto il colloquio umido deve essere sviluppato subito eccetera eccetera e vede questa fotografia che lui chiama valle dell'ombra della morte biblica evocazione ma questa non evoca una guerra lui cosa fa? sposta le palle da cannone e rifà la foto nella storia fotografia ci sono queste due fotografie la prima e la seconda in genere è accettata la seconda perché rappresenta meglio l'idea di una battaglia allora il problema è questo chi e per chi facciamo queste fotografie nell'epoca dell'intelligenza artificiale è più facile rispetto al ritocco a mano rispetto a photoshop cioè abbiamo vissuto tante cose ricordiamoci che c'è un premio intitolato Walter Eugen Smith un premio di fotogiornalismo ma Eugen Smith cambiava le sue foto la celebre foto di Smith del come si chiama il dottor Schweizer a Lambadene dove era lui in Africa il nero non c'è nel negativo il nero grosso dietro dietro la figura di Sval non c'è c'è la messa lui la domanda è il nero c'era Lambadene o no se c'era il fatto che ce lo metti non è che influisce però sul giornalismo è questo arriviamo alle foto false di recenti di Trump piuttosto che del Papa con il Moncler non è che questo ce ne freghi più di tanto ma l'arresto di Trump è clamoroso se non ti fermi e sul tuo smartphone non ragioni lo prendi per una cosa vera e ora il problema è questo è la difesa che il pubblico non ha il pubblico quando vede una fotografia di pubblicità può difidare dice mi fanno vedere questo oggetto ma me lo fanno vedere più bello di quello che è è pubblicità e io ho le mie armi per prendere le distanze è nel giornalismo che non ho le armi nel giornalismo se tu mi fai una foto io dovrei crederci quindi etica la etica diventa questa però l'etica a parte che c'è un bellissimo libro di Ferdinando Scianna etica e foto giornalismo pubblicato credo la schierà o la electa ma non cambia forse e l'introduzione di Ferdinando Scianna è bellissima non esiste l'etica del fotogiornalismo esiste l'etica punto cioè non riferita poi via via la riferiamo ma esiste l'etica l'etica è una cosa fondamentale poi riferita diventa tutto un discorso specifico e quindi in questo momento è chiaro che è più confuso di precedenti e i prossimi lo saranno ancora di più a parte che chiamare intelligenza artificiale mi sembra troppo non è intelligenza è artificiale l'intelligenza vuol dire un'altra cosa ma possiamo creare quello che vogliamo ma l'abbiamo sempre potuto fare la storia della fotografia poi è piena i paesi dell'est soprattutto unione sovietica cecoslovacchia eccetera le foto alterate e modificate la sparizione di personaggi la comparsa di altri no l'unico caso che è interessante di questo la sparizione di personaggi dalle fotografie se qualcuno si ricorda o ha visto smargiarsi spesso le pubblica è il polisburo schierato ai funerali di Mao parliamo del 76 dove mancano i quattro definiti della banda dei quattro a partire dalla vedova Chan Ching ma la cosa affascinante di quella rivista che probabilmente smargiarsi non ha mai visto è ovvio che qui due copie ci sono ma questo è un dettaglio secondario è che i cinesi non hanno tolto i quattro personaggi per cancellare la storia che pure hanno cancellato ma che non hanno unito le foto cioè mentre i cecoslovacchi così toglievano dubbi che poi univano la foto e coprivano la presenza cioè nascondevano l'ex presenza di Dubcek dopo la primavera di Praga ma che loro i cinesi tolgono i quattro personaggi lasciano i buchi e in didascalia mettono XXX cioè in didascalia sottolineano quattro assenze immeritevoli di essere lì allora diventa un altro discorso però l'alterazione l'alterazione della storia è sempre esistita la fotografia mente sapendo di mentire allora il discorso non è tanto se è intelligenza artificiale o meno il discorso è se c'è etica o meno nella fotografia pubblicitaria di moda eccetera possiamo mentire finché vogliamo non stiamo stiamo vendendo dei prodotti non delle idee non delle opinioni e la gente è ribadisco e confermo ha le sue armi di difesa se tu vedi la foto di un piatto al ristorante stai benissimo che quello che ti arriva non è quello cioè quello che della foto è molto più bello di quello che tu hai visto ma nel giornalismo tu vorresti la verità ma se si mente a parole la mia domanda è questa e la rivolgo a tutti voi perché non dovremmo mentire con le fotografie si mente a parole eppure la parola ha un valore cioè non è inficiata da questo e allora se si mente con la fotografia non dovrebbe essere inficiata la fotografia nel suo complesso insieme dovrebbe essere un suo linguaggio c'è qualcuno che ha qualche voglia qualche cosa da buttarmi addosso o no? Roberto ti vedo perplesso sono in stupita attenzione non sono perplesso mi piace tantissimo come sai unire i puntini creando i puntini e non seguendo quindi no per adesso non ho ancora niente da dire c'è Fabrizio Balestieri che ha alzato la manina chi è? dov'è? sono qui dimmi quello che agita la mano ciao Fabrizio innanzitutto piacere di conoscerti è una devo dire che è un incontro molto interessante e hai sollevato dei punti sui quali anch'io mi sto interrogando in questo periodo mi sto cercando di documentare per quanto documentarsi possa per tutto quello che documentarsi possa significare essendo però una questione di etica esatto forse l'intelligenza artificiale è più vicina all'etica essendo un processo non perfetto non aritmetico penso che allora tu hai sollevato dei punti giusti ma anzi e ti faccio una ti imbecco in una cosa quindi la differenza se vogliamo forse dobbiamo capire se la fotografia la fotografia stiamo parlando di cosa di praticamente fotogiornalismo di fotografia documentiva la moda è ovvio è ovvio che la moda menta è ovvio che la pubblicità menta esatto cioè ma appunto questo però attenzione anche lì ci sono dei problemi etici certo certo anche lì c'è una regolamentazione che non c'era prima si stanno introducendo forme di regolamentazione a mio parere modesto ma abbastanza giuste su se se la fotografia deve essere verità e qui sono d'accordo che non lo è ma possiamo possiamo parlarne il concetto di verità il concetto di veridicità e il concetto è il concetto di verosimiglianza io sto utilizzando da qualche tempo appunto la cosiddetta intelligenza artificiale e anche qui possiamo parlarne se è intelligenza secondo me lo è non a livelli molto alti ma lo è però l'intelligenza artificiale è quello che permette di fare allora la fotografia è passata da un criterio di verità ad un criterio di veridicità cioè comunque è una cosa è vera ovviamente reinterpretata qual è la differenza ti posso scusami no forse è la differenza tra vero e verosimile verosimilianza è tra vero e verosimile sì perché poi andiamo su concetti di 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 fabrizio se fabrizio se fabrizio si volevo veloce è stato ben per me è benissimo fabrizio il problema di fondo è questo ci so che la fotografia inganna la fotografia inganna la parola vogliamo essere semplici la fotografia inganna come la politica come la religione allora qui andiamo al fotografo se non hai l'audacia di cogliere l'inatteso e anticipare l'eternità in un attimo di verità questo sei tu non è il mezzo e la differenza è sostanziale storicamente e anagraficamente io arrivo da un'epoca in cui ci sfurano delle cose ci fu una fotografia durante una manifestazione a Milano di quattro studenti così che manganellavano un poliziotto lo scatto dopo erano cinque poliziotti contro uno studente quale delle due la verità parte che uno degli studenti era Fabio Treves ma questo è un dettaglio che riguarda i milanesi il problema è l'etica individuale noi nel fotogiornalismo abbiamo soprattutto almeno due grandi fotografi Uliano Lucas Tano D'Amico che nella loro vita non hanno mai cambiato il rispetto della loro immagine la loro immagine è sempre stata gli altri il noi invece dell'io facciamo una metafora gli annacci forse Guccini sicura probabilmente Gaber c'è gente che cambiando l'evoluzione del tempo comunque ha sempre anteposto gli altri il rispetto il noi quanti fotogiornalisti hanno mantenuto il noi e questo è il discorso l'etica individuale ha ragione Shanna l'etica del fotogiornalismo non esiste esiste l'etica che può essere del prestinaio del verduraio quello che vuoi se noi fotografi per mille motivi nel fotogiornalismo questo è clamoroso veniamo meno a certe condizioni e le accettiamo è lì che cambia anni fa sette il supplemento al Corriere della Sera allora diretto credo da Paolo Pietroni si fu d'accordo in quel momento tra la politica sovietica allora o forse già russa e quella tedesca e sette avrebbe pubblicato la copertina col primo ministro di allora tedesco con un colbacco e la redazione dice no se lui colbacco non ce l'ha noi non ce lo mettiamo se ce lo mettiamo ci sta dobbiamo dirlo che non è una fotografia è un'illustrazione allora torniamo alla Domenica del Corriere di Beltrame le tavole di Beltrame non erano fotografie erano illustrazioni il cane che salva uno in acqua cioè erano delle immagini delle ipotesi allora il problema è questo fotografare è una cosa sapere cosa e come è un'altra e questo sta al fotografo ma nelle condizioni editoriali eccetera il fotografo Tolto Lucas che ha sempre vissuto senza agenzie eccetera Tano D'Amico da Roma altrettanto quanti fotografi hanno rinunciato all'assignment io non li condanno ognuno di noi ha diritto e dovere di comprare di andare a fare la spesa all'essere lunga la sera però è questo che è successo quindi se Nadar nell'ottocentocinquantasei parla di ritocco a parte che lo dice che è opportuno eccetera ma questo ci sta può ostracce o non ma se già nell'ottocentocinquantasei il ritocco se già nell'ottocentocinquantasei cinquantacinque in a guerra di Crimea sposti le palle da cannone per raffigurare una sensazione di battaglia che la realtà non ci dà dove ci fermiamo? non ci fermiamo ci fermiamo sul racconto ci fermiamo sull'etica se Eugen Smith ripeto a cui hanno intitolato uno dei più grandi premi di fotogiornalismo diciamo doc eccetera al mondo se lui introduce un nero dietro Schweizer il nero c'era o no? avrebbe potuto esserci o no? l'etica è di la misura entro il quale tu devi dire ribadisco si mente a parole per far credere o capire un racconto perché non dovremmo mentire con le immagini nella stessa identica misura il fondamento per una buona fotografia è una buona morale ragazzi inutile che andiamo lontani è tutto lì e la morale è importante quando adesso le citazioni dotte fanno schifo ma quando Susan Sontag si pone il problema in un bellissimo libro più bello di sulla fotografia che è davanti al dolor degli altri la sua domanda è esplicita quanto quanti secondi dedichiamo a una fotografia di guerra due tre probabilmente un tempo inferiore al tempo di otturazione dello scar però quei due tre secondi uno un venticinquesimo cambiano la vita di qualcuno e noi a tavola continuiamo a mangiare o ci fermiamo allora ci sono delle citazioni io amo abbassare sempre i toni ci sono due citazioni dal cinema molto belle i dialoghi dei film sono spesso interessanti i dialoghisti sono bravissimi e gli sceneggiatori altrettanto vi ricordate i sogni segreti di Walter Mitty l'avete visto tutti spero qualcuno non ha visto il film i sogni segreti di Walter Mitty purtroppo io non l'ho visto allora il film cos'è è la chiusura di Life posticipata di vent'anni rispetto alla realtà nel duemila e qualcosa Life deve chiudere per motivi aziendali ci sta e un fotografo Sean O'Connell manda la fotografia dell'ultima copertina manda questa fotografia in un rullino ma nel rullino cioè nei negativi manca questo rullino manca questa posa e tutto il film è il foto editor Ben Stiller che va alla ricerca di questo negativo e questo è il film lui raggiunge Sean O'Connell in una cosa tipo Groenlandia quelle cose che non andrei neanche mi pagassero per farlo lo raggiunge e Sean O'Connell che poi è Champagne è un cameo di Champagne è fermo in mezzo alla neve con i treppiedi la Nikon piazzata e deve fotografare il leopardo delle nevi che pare non esca mai cioè se percepisce anche a 10 km l'umano non si fa vedere e lui è lì da 10 giorni a aspettare il leopardo delle nevi a un certo punto il foto editor Ben Stiller lo raggiunge si siede di fianco questo è lì cosa stai facendo aspetto e a un certo punto da lontano esce il leopardo delle nevi e l'inquadratura che si è del film tra l'altro è il leopardo delle nevi che fu un BBC Wild Life un premio annuale ma è una citazione simpatica ed olta e Champagne Sean O'Connor non scatta e il foto editor rimane al limite fa perché non scatti e lui lo guarda e gli dice ci sono delle cose così belle da guardare che è inutile fotografarle questa è morale ci sono cose così belle da guardare che è inutile fotografarle però lui era lì da cinque giorni in mezzo alla neve allora è questo andiamo in un'altra citazione bassa perché io amo il profilo basso One Hour Photo con Robin William l'avete visto? no tolgo il contatto adesso scusate lui è un addetto di Minilab e a un certo momento del film lui va in un mercatino quelli che possiamo trovare nei nostri paesi nelle nostre città e in una scatola ci sono dei ritratti familiari istantanei e lui lo guarda guarda queste foto e dice cos'è un ritratto familiare significa che qualcuno nella tua vita in un certo momento ti ha voluto così bene da volerti fotografare questa etica è morale o no? noi continuiamo a farci le seghe sui grandi argomenti e non vediamo gli argomenti quotidiani significa che qualcuno nella tua vita ti ha voluto così bene in un certo momento da volerti fotografare questo non è il senso di una foto ricorda che poi diventa storia che poi diventa racconto e sicuramente vita continuiamo a fare questa storia sull'intelligenza artificiale ma quante fotografie non istantanee abbiamo avuto nella nostra storia Joe Rosenthal Iwo Jima la foto vera della bandiera di Iwo Jima l'ha scattata un altro se ricordo bene aspettate che avevo preso il nome perché me lo ricordo Louis R. Loveri un fotogiornalista di un'altra agenzia ma la bandiera faceva schifo era una bandierina Joe Rosenthal prende cinque bei marine sei belli muscolosi eccetera e li mette in posa la foto di Joe Rosenthal è una fotografia quella di Loveri fa cagare è una bandierina messa su una montagna la fotografia è un linguaggio se un autore di testi corregge i suoi testi toglie le virgole le aggiunge ripulisce il testo anche il fotografo deve poterlo fare la fotografia di Joe Rosenthal è un'icona l'altra pur essendo vera non è un'icona non è pubblicabile sulla prima sulla copertina di Time o Life non è pubblicabile come hanno fatto nei francobolli eccetera eccetera non è iconica la fotografia è un linguaggio ha bisogno dell'icone e ha bisogno di un passo e allora se glielo dai dov'è il problema torniamo a Fenton posta le palle a cannone addirittura prima dell'invenzione della fotografia 838 un anno prima c'è una fotografia che viene che è revelata come la prima presenza umana in fotografia Daguerre fotografa un uomo dall'ustra scarpe no boulevard du temple ma voi conoscete uno che sta dall'ustra scarpe per 25 minuti fermo chiaro che è un complice è un suo amico con la capotto scuro sul fondo chiaro e Gadì e gli ha detto stai lì fermo 25 minuti già conoscete uno che sta per 25 minuti a farsi lucidare una scarpa è chiaro che è un rapporto perché la fotografia ha delle sue esigenze il processo di Daguerre originario richiedeva 25 minuti 25 minuti sono tanti 25 minuti si rompi le palle molto prima allora lui fa di necessità virtù Fenton fa di necessità virtù Rosenthal fa di necessità virtù e poi sulle bandiere arriviamo a Caldei poi la storia sovietica dice primo maggio perché è chiaro che è evocativo ma la bandiera sul Reichstag è una posa dov'è il dubbio a parte che è una posa scandalosa perché chi ha seguito la vicenda uno dei militari che tiene la bandiera sul Reichstag ha tre orologi sul braccio quindi significa che come minimo è uno che ha saccheggiato le case intorno a sé quindi poi nella pubblicazione gliel'hanno ritoccata per non far vedere che ma allora cosa è la fotografia è un linguaggio e come tale ha dei parametri che però qual è l'intelligenza artificiale che adesso arriva non è che arriva all'intelligenza artificiale ed è intelligenza artificiale arriva in un momento in cui la gente sugli smartphone sui device guarda per una frazione secondo la cosa e ci crede quindi il problema non è l'intelligenza artificiale è la stupidità della gente e se Maurizio e se ipotizzassimo che la gente nel suo insieme è stupida ma singolarmente lo è meno e se ipotizzassimo che questa sovrabbondanza di falsità così deep così fake e così deep così cheap profondamente profondamente falsa sta abituando tutti se non altro i giovani a non credere più a niente cioè non sarà che questo eccesso di mistificazione paradossalmente protegge dalla mistificazione perché quando capita una volta su cento che mi stai raccontando qualcosa fingendo io posso crederci ma se cento volte su cento sono finte al lupo al lupo al lupo al lupo allora Roberto due cose mi inviti a nozze uno per dire una cosa una per abbassare i toni uno io sogno che succeda che uno guarda una foto e dice questo fatto non è avvenuto tant'è vero che c'è una fotografia cioè che arrivi al paradosso opposto se c'è una fotografia non è avvenuto cioè mentre che la gente crede ed ha un valore diverso e poi ancora un film una strana coppia di suoceri altro film se non l'avete visto di altri due che vi ho citato no questo ho visto una strana coppia di suoceri stupendo eh è una commedia è grottesco perché sono Peter Falck Peter Falck che io considero un maestro di pensiero nei panni del tenente Colombo Peter Falck e Alan Harkin altro grande attore quello di Comma 22 che si è una strana coppia di suoceri perché sono due consuoceri che si conoscono la settimana nella quale i rispettivi figli e figlia si devono sposare Alan Harkin è un attempato dentista di New York Peter Falck è un cialtrone che in realtà è un agente della CIA che fa casini allora alla cena in cui si conoscono le famiglie Peter Falck racconta delle cagate che non reggono no tutti sono allibiti la moglie il suocero i suocero la suocera e lui dice a un certo punto che lavora per mascherare la sua attività CIA lavora in un paese dell'America del Sud così povero e al tramonto le mosche delle grosse mosche planano sul villaggio e rapiscono i bambini nel loro becco con il loro becco che è una storia grotesca e Alan Harkin ha tempato e dice ma non l'ho mai letta questa notizia neanche su selezione del Reader Diger che per i buon pensanti americani è la Bibbia e la moglie di Peter Falk dice una cosa meravigliosa dice sì caro quello che dici è vero cioè che le mosche planano e rapiscono i bambini tanto è vero dice che gli facesti quelle belle fotografie che poi non vennero cioè se già fossero venute non dimostrerebbero niente ma sono quelle belle fotografie quindi è già dato una qualità che poi non vennero è qui che io voglio che tutto crolli nel senso perché se tu dici una cosa a parole uno dice non ci credo vorrei che lo dicesse anche sull'immagine se non hai parametri a Las Vegas io nella vita ho raccolto tante cose ho raccolto non ho collezionato e ci sono i cartoncini delle prostitute di Las Vegas non dite di non essere mai stati a Las Vegas e non aver raccolto questi cartoncini che ti danno per strada in albergo ce ne sono alcuni che sono meravigliosi perché ci sono queste prostitute che offrono servizi parenti se vi interessa accettano la carta di credito e c'è una frase negli ultimi anni che è stata aggiunta e che c'è scritto fotografia recente vuol dire che c'è qualche cliente che si è lamentato avendo visto il cartoncino e la promessa che poi è arrivata sua nonna ecco c'è arrivata la nonna della signorina la figura per cui l'idea fotografia recente è una certificazione io le trovo affascinanti queste cose però ripeto nell'epoca e nel mondo è sempre un problema nostro ma che possiamo fare still life possiamo fare quelle che vogliamo il problema è sempre che la fotografia deve essere rispettata mentre la scrittura lo è la scrittura i nobili non magari quando noi compriamo novella 2000 lo prendiamo con diffidenza o no se una notizia è sulle mond quindi è il contenitore che dà la veridicità al contenuto non il contenuto al contenitore e quindi è questo il senso che la fotografia deve essere filtrata con uno sguardo che declini l'etica visiva io direi della pietà laica aggiungerei che arriva fino alle stelle ma questo buttatelo via ma è questo il senso che la fotografia deve avere deve acquisire o riacquisire un valore di espressione indipendentemente tra i mezzi parliamo di intelligenza artificiale perché Photoshop cos'era o cos'è il ritocco cos'era certo il ritocco dovevi essere capace di farlo avere i mezzi e il tempo in più se sbagliavi tornavi a zero con Photoshop puoi tornare a mela S mela Z ecco io quando per capire che sono stanco lavorando e quando mi cade un oggetto io lo guardo e penso mela Z cioè se schiaccio mela Z torna sul tavolo vuol dire che ho raggiunto un livello di stanchezza però non c'è l'intelligenza artificiale o c'è c'è stato il ritocco tra il novecento tra l'ottocento e il novecento si erano i malfattori ecco sicuramente malandrini che facevano le foto dei fantasmi uno che c'è cascato era Sir Arthur Conan Doyle l'autore di Sherlock Holmes che era esperto di fotografia e desideroso di credere nell'impossibile è quello che ha certificato ve lo dico le fate di le due le due quiginette Longley che hanno fatto le fate quelle che dicevano che uscendo in giardino incontravano le fate nessuno ci credeva ti fanno prestare una macchina fotografica a far vedere le foto con le fate tagliate nel cartone come era ovvio che fosse lui ci è cascato e tra sono fate vere scelta Sir Arthur Conan Doyle ha accreditato chiamiamole fotografie dei fantasmi adesso ce lo diciamo e fa ridere cosa cos'è una fotografia di un fantasma Roberto Tomesani davanti al suo posto è una è una sagoma dietro una posa lunga giusta per lui e evanescente per chi si sta muovendo cioè adesso conoscendo i termini tecnici ma se parti dei termini tecnici poi arrivi alla manipolazione Nadar il ritocco Photoshop c'è tutto io ho una buona serie di fotografie che ho le chiamo post morte i bambini morti quant'era la mortalità infantile anni o decenni fa l'ira di Dio no e non c'erano le macchine adesso un bambino nasce e quando ha 5 ore ha già 2000 fotografie probabilmente allora non c'erano se il bambino moriva lo mettevano lì e il fotografo gli faceva gli occhi aperti tant'è che Tanna racconta un episodio quando lui disse al suo padre voglio fare il fotografo parliamo di bagheria anni 40 e il padre dice come Don Peppino il fotografo del paese che rende i morti vivi e i vivi morti perché era bravissimo nel fotografare i morti facendo sembrare che fossero vivi ma quando fotografare i vivi sembravano i morti cioè non aveva anima allora tutte queste cose ci sono state ma questo non dovrebbe togliere dignità alla fotografia Roberto Domesani hai mai mentito in vita tua? Qualsiasi cosa risponda è incongruente a qualsiasi cosa risponde è una menzogna è giusto? Sì eppure la parola ha un valore no? La parola quando sentiamo le parole perché dobbiamo demonizzare la fotografia? Perché le abbiamo attribuito un valore che nessuno aveva detto che aveva perché? Certo che nel corso dei decenni si è potuto fare quello che si voleva senza interferire sul processo chiamiamolo meccanico della fotografia e ribadisco speriamo arrivare al punto in cui uno dice questo fatto non è accaduto tant'è vero che c'è una fotografia che è un paradosso Patrizia cosa ne dici? Patrizia sa benissimo io sono l'unica Patrizia perché sì sono l'unica Patrizia stai parlando molto piccinini dai piccinini piccinini sì ma io penso che dare una dignità alla fotografia significherebbe considerarla come appunto faceva anche Gilardi cioè una delle tante tecniche di raffigurare un certo un certo evento poi di fotografie ne esistono tantissimi generi tantissimi tipi le fotografie si fanno sia diciamo dal punto di vista scientifico in alcuni casi servono veramente non so a vedere se hai il braccio rotto e quello non si può dire che non sia vero però allora ne esistono tantissime però appunto la fotografia è anche una bella illustrazione se serve appunto vedere diciamo il gruppo di marine che hanno una bella bandiera cioè l'idea è quella cioè è più che normale che ma è nell'immaginario Patrice è nell'immaginario è nell'immaginario sì certo cioè tu rispondi all'immaginario cioè i marine non sono belli muscolosi a parte è che io qualche mese fa in uno special a Lisia di Urbino sulla fotografia nel cinema presentai anche un disco un 45 giri Columbia di Johnny Cash che si chiama The Ballad of Ira Hayes e uno studente dice perché c'è questo disco nella e gli dico va innanzitutto perché se non so che un oggetto c'è vivo sereno se so che c'è vorrei averlo il Rayas è uno dei sei quindi Johnny Cash fa una ballata su uno dei sei del di Vojima mi piace però i sei erano sei belli non erano i sei sfigati che hanno conquistato il monte su ribacchi cioè magari uno con i pantaloni strappati cioè la fotografia ha bisogno e quell'inquadratura verticale è perfetta la bandiera è bella ci sta tutto è linguaggio è linguaggio è un'illustrazione è un'illustrazione è un'illustrazione e questo va detto non c'è problema è questo il senso fa parte della cultura visiva all'essere diciamo è un'illustrazione se tu fai vedere se tu fai vedere una foto la foto vera di tre marine uno che ha paura che arrivi nei giapponesi sta lì col mitra così fa schifo cioè i sei devono essere belli e ripeto anche belli fisicamente no? cioè non è che non è che hanno preso sei sciamanati hanno preso sei bei marines ma anche altrove ma del resto nell'850 quindi parliamo di 11 anni dopo la storia di nasce la fotografia Maxime Duchamp che fotografa le sfingi cioè si fotografa in Egitto si pone un problema che non c'è dimensioni tu fotografi la sfingia ma la sfingia non ha dimensioni potrebbe essere dieci centimetri o sei metri no? allora ci fa sedere uno sopra quindi uno che sta seduto che non c'entra cioè figure se uno si siede sulla sfingia no? uno si siede sulla sfingia e ti dà la dimensione se c'è una persona che è alta tot vuol dire che l'insieme è alto tot più allora noi dobbiamo raccontare ma è questo ripeto l'etica e la morale cioè passare da raffigurazione a rappresentazione però nel giornalismo giustamente il pubblico va avvertito se il primo ministro tedesco gli metto in testa un colbacco devo scrivere un'illustrazione se lui il colbacco non l'ha mai avuto in testa tu hai diritto di sapere che lui non ha il colbacco si ha fatto gli accordi per il petrolio questo ci sta ma non è questo che cambia Roberto concludo e vai tu è sempre il pensiero di vivere questo che certa fotografia deve fare ed è l'innocenza del divenire il pensiero di vivere poi applicato a qua qua dimmi Roberto allora no volevo dire che c'è Fabrizio Baresieri che chiede la parola però mentre ha la manina alzata mentre passo la parola mentre passo la parola Fabrizio volevo ringraziarti per impersonificare la poesia perché io confesso che arranco a stare dietro alla ragnatela di conoscenza che di pani però mi sembri un pittore che accenna pennellate e da quelle pennellate emerge un mondo interiore più che una sequenzialità come il poeta che non si esprime in prosa perché la prosa è descrittiva ma troppo sequenziale per tirarti dentro il tuo modo di procedere non sequenziale è poesia molto di più se mi dici che è poesia mi sparo in testa sparati in testa Roberto anagraficamente poi qui non so quanti milanesi ci sono pochi io odio quando mi dicono la vita di poesia delle case dell'inghiera non ho che non è questo hai le case dell'inghiera le case operaie no si dice la poesia delle case dell'inghiera e io rispondo sempre per chi non ci è vissuto chi ci è vissuto era prosa cioè chi doveva andare in un bagno condiviso con sei famiglie smetteva di essere poesia certo se vivevi bene così e guardavi questo come a teatro è poesia ci sta no no la poesia a parte che la poesia ci deve appartenere Roberto la poesia ci deve appartenere assolutamente si sta come l'autunno sugli alberi le foglie cioè diventa delle cose meravigliose le frasi io poi sono gli annacciano nella mia vita io ho vissuto nell'epoca gli annacci per cui il fatto che uno riesce a scrivere una canzone ho visto un uomo piangere in via Lomellina nel 64 cioè l'argomento è un uomo che piange in via Lomellina cioè non è che sia però è l'intelligenza è guardare le cose vi ricordo che gli annacci chi non lo sapesse era un cardiochirurgo e ha fatto la specializzazione a Johannesburg con o a città del capo con Barnard lui è stato quattro anni assistente di Barnard primo trapianto di cuore poi faceva le canzoni un altro discorso dimmi dici Annico avevi alzato la mano sì 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 no anch'io arranco anzi striscio allora aspetta che devo riprendere il discorso perché con tutta questa poesia è prosa no ma è bello mi è piaciuta anche la tua postilla Maurizio sulla sulla poesia tra virgolette dei borghesi no che sulle case di ringhiera che mi ricorda un po' il che bella la vita del contadino in campagna esatto era io io cito di più quella rispetto alle case di ringhiera io purtroppo sono milanese non purtroppo sono milanese colgo il purtroppo eh no allora apprezzo apprezzo tu ho detto il discorso di Massima e il fatto che no assolutamente la fotografia probabilmente è stata insegnita di un valore di verità che cos'è la verità cioè se verità con la V maiuscola no la fotografia non è una verità la fotografia è una comunicazione quindi è un'interpretazione della verità per tutto quello ancora che possiamo avere la verità cioè la la realtà che ci si pone davanti agli occhi o quella che noi percepiamo dai dal nostro cervello eh però però non butterei via il bambino eh insieme ai tanni cioè ehm insieme all'acqua sporca scusa il la tutta la fotografia non va né demonetare perché se viene modificata dalla eh dalla verità della 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 situazione attuale ma nemmeno osannata però non è tutta la fotografia ehm tu prima hai citato ehm noi se leggiamo ehm aspetta cos'era eh vabbè facciamo se leggiamo un giornale scandalistico non li crediamo se leggiamo un un Le Monde o potrei dire se leggiamo il Guardian perché allora crediamo o crediamo molto di più alle mondo il Guardian eh potrei citare anche delle testate italiane non so io per esempio ritengo autorevole il post eh come come notizie eh è una è una domanda forse anche un po' una domanda retorica perché se lo sono conquistato se lo sono conquistato se lo sono conquistato e facendo cosa perché magari non so se mettono se il giornalista eh se il giornalista mette un virgolettato tu sai che quel virgolettato è vero cioè hanno verificato effettivamente hanno sbobbinato un'intervista e quello è veramente un virgolettato della persona esattamente come nella fotografia se pubblicano una fotografia che poi si è inquadrata da una parte o dall'altra e lì la prospettiva cambia spesso l'interpretazione ma quella fotografia è vera è comunque una prospettiva di una cosa vera è veramente accaduta quando si introduce invece ma non photoshop anche il ritocco nell'ottocento nel novecento però quando si modifica o si costruisce qualcosa sempre sai benissimo io non posso più fidarmi del fatto che sia vero io lo sai benissimo che anche nella fotografia del vero parliamo della fotografia del vero il sale di pose è un altro discorso la fotografia del vero tu comunque come autore hai un mezzo in più il punto di vista la focale cosa includere cosa escludere l'inquadratura cioè lì hai già fatto una selezione hanno ragione quei fotografi come G. Smith i nostri italiani Lucas Deltano un amico eccetera quando dicono il fotografo deve avere un'opinione non è vero che il fotografo deve essere una persona settica che arriva se arrivi in Vietnam e vedi delle cose scandalose non può stare zitto o non avere gli strumenti di sottolineatura questo è ovvio questo ci sta però c'è anche e a questo apri un margine il problema è questo o non si modifica niente tutto è perfetto se si inizia a modificare ma attenzione si comincia dall'inquadratura allora tutto è imperfetto ecco che allora torniamo a noi e interviene l'etica e la morale cioè l'etica però scusami che intervengo quella che inizio eh scusami no 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 scusa finisci il discorso no no poi intervento con una con una nota con una critica diciamo a quello che dici sì se mi permette sì sì volentieri dimmi dimmi ah no pensavo volessi aspettavo di non c'è problema non c'è problema vai sereno però allora la fotografia essendo una forma di comunicazione è assolutamente un'interpretazione della realtà però un conto è l'interpretazione della realtà con un'inquadratura con un taglio specifico con una focale specifica scegliendo anche il momento cioè scegliendo il momento ehm alla alla Cartier-Bresson no? Cartier-Bresson sceglieva è famoso forse è simbolico per questo sceglieva il momento giusto però effettivamente se poi capita come nella fotografia di Robert Capa grandissimo fotogiornalista e grandissima foto del soldato spagnolo che cade se poi si viene a sapere che quella era una foto costruita non di parte di un'interpretazione di un fotografo di parte ma assolutamente costruita cioè una 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 come se fosse una pièce teatrale decade completamente vabbè quella foto ha segnato una ha segnato ha fatto la storia ed è stata importante ma non si può chiamare fotogiornalismo cioè perde eh quella realtà quella verità che si portava dietro realtà di parte ma sempre realtà è se io porto un virgolettato e non porto un altro io sto riportando una frase vera è realtà se no non accettiamo il l'infermiere nero dietro a dietro a Schweizer di G.S.B.T. qual è il discorso i neri a Lambadene c'erano o no il fatto che in quel momento uno non ne passasse ci sta ma che nell'illustrazione G.S.M.I.T. l'ultimo grande reportage sull'anno finale di Life 72 che è Minamata Minamata è il grande reportage il bagno di Tomoko è organizzato dov'è il problema deve raccontare la mamma può mettere Tomoko nel bagno o no ci sono dei miliziani che cadono e se cade col fucile che cade bene come nei film come Clint Eastwood forse ci sta quello che è quando tu alteri non la composizione ma il senso ed è questo che cambia tutto ecco dove l'etica è a monte se G.S.M.I.T. ha bisogno di un niero dietro a Schweizer per certificare che lui a Lambadene non è a Manhattan perché di questo stiamo parlando allora non è un problema è l'intenzione è il senso non l'esecuzione e poi la fotografia sia un linguaggio che abbia bisogno come tale di non stereotipi ma di momenti di visualizzazione questo dobbiamo accettarlo è come accettare un articolo voglio dire l'autore o mette qui racconta là ma il problema è lui c'è o non c'è è avvenuto quel bombardamento o no ecco e ripeto poi diventa il contenitore non è novella 2000 è Le Monde che ha una cosa ma anche qui c'è un film poi qualcuno guarda questi film e mi fa anche delle domande curioso io mi occupo anche di macchine fotografiche questo lo devo dire e sul film c'è un film che si intitola Mina Amata ed è la storia di G. Smith interpretato in parola da Johnny Depp a Mina Amata il quale G. Smith usava macchine la sua quelle che gli prestavano e uno mi dice ma è vero che G. Smith usava la minota e che cazzo me ne frega cioè il problema di Mina il film si intitola Mina Amata sui titoli di coda scorrono a sinistra delle immagini a destra i soliti autore produttore sulla sinistra scorrono 25 disastri ambientali successi negli ultimi trent'anni Seveso quello come si chiamava Bonpal quello delle pile insomma eccetera eccetera ma c'è un film che si chiama Mina Amata e che ha l'argomento è come l'uomo ha alterato che poi è un'altra serie fotografica di Burtinsky meravigliosa se avete visto ho seguito le mostre al MAS di Bologna Antropocene perché noi stiamo vivendo da vent'anni o trenta in un'epoca nella quale le trasformazioni non avvengono più per natura avvengono per l'intervento dell'uomo esempio probabilmente la Romagna di questi giorni inutile che ci raccontiamo cazzate o sbaglio allora Mina Amata che è un momento epocale l'inquinamento dell'acqua il villaggio eccetera il problema di uno che si occupa di una feria è se Gene Smith usava veramente la Minolta o no io a volte penso al suicidio più volte ma vuol dire non capire Mina Amata il 50% delle foto G. Smith le dichiarate sono o costruite o fatte non c'è reportage non ci può essere è già successo la gente è già morta e allora costruiamo il passaggio di e te lo racconto ergo l'etica a monte è l'etica che sta a monte la morale che sta a monte e che è quello che vi chiedo prima adesso potrei prendere la fotografia inganna quanto la politica e la religione se non ha l'audacia di togliere l'inatteso e anticipare l'eternità in un attimo di verità e questo è il senso tu devi costruire un attimo di verità che non sia la verità non ce ne frega niente ecco ma forse sì sì ma forse allora quello che ci mette d'accordo Maurizio non è la dichiarazione trasparente la dichiarazione di che cosa io ho costruito che cosa non corrisponde adesso io non voglio utilizzare il termine verità ripeto con la v maiuscola la realtà che cosa la mia macchina fotografica non ha colto spontaneamente ma ho costruito io poi il messaggio esattamente come una poesia di Ungaretti prima ne ha citata ne ha citata una esattamente come una poesia di Ungaretti è costruita ma suscita qualcosa può modificare anche una storia una fotografia allora è questo che il problema chissà ma allora perché non dichiararlo perché non obbligare a dichiararlo qualcuno è grottesco in un settore diverso 30 anni fa Airone non possiamo citare Airone come se fosse la Madonna di Lourdes ma Airone pubblicava quando pubblicava gli animali allora Airone era non era Cairo era Bruno Mondadori si occupava di natura adesso di cazze bubole eccetera Airone metteva un bollino per specificare gli animali fotografati in natura o in zoe quelli che quello si dice cattività mi pare giusto cioè dietro una gabbia ora questo ci sta tu mi dici questo leone non è nella savanna è a Gardone Riviera poi è un bel leone chapeau ma allora noi dobbiamo tornare al senso della fotografia rimaniamo sugli animali c'è stato un libro di qualche mese fa pubblicato da Stedl di tedesco gli animali selvaggi la fine cioè gli ultimi imperatori chiamiamola così ma erano bellissimi erano bellissimi ma allora torniamo nel giornalismo ci torniamo andiamo nella fotografia di natura che io parli di fotografia di natura è una bestegna bella e buona io non esco di qui neanche mi pagassero per farlo cioè a me la natura quando vedo un prato penso quante cacche ci possono essere cioè ho delle mie idiosincrasie ma la fotografia di natura vogliamo dire che è poco bella poi non la non la consideriamo e la fotografia non ha natura e non ha non ha lo sport giusto ha solo foto giornalizzo moda ritratto punto e ci fermiamo lì la natura ma un fotografo che segue la natura che sacrifici fa che fatica fa per la migrazione per etica Salgado che qualcuno tratta male qualcuno esagera sul bene no lo santifica ma l'etica di Salgado e di sua moglie Laila Warwick Salgado non solo fanno quei lavori ma ricavato di quei lavori sta sta creando le nuove foreste in Amazzonia l'altro erano i coniugi spetta che l'avevo segnato oltre a Salgado Peter Menzel e sua moglie Faiste da Udilio che fecero un lavoro meraviglioso che si chiamava Angry Planet il pianeta affamata hanno passato tre anni in giro per il mondo a fotografare famiglie con davanti a sé il cibo di una settimana quindi in California ti immagini quante pizze quanti calzebubbo lì c'erano no ma due che vanno una sociologa e un fotografo e raccontare il pianeta affamato e ha queste contraddizioni l'Ucraina la vediamo tutti la Siria la vediamo tutti ma ma quello che non sta bene è che ha problemi a un centimetro al tuo naso quanti lo vedono perché l'Ucraina è evidente la Siria è evidente ma il tuo vicino che non hai soldi per mangiare tu l'hai considerato mai ora tu fotografo con l'etica e la morale puoi svolgere questi temi perché se ti li racconto non ci credi qui hai ragione tu se te li faccio vedere ci credi per convenzione o per cosa quando tu vedi marito moglie tre ragazzini californiani con davanti a sé quintali di pizze cazzate così e donna uomo e bambini in un villaggio africano con tre scarabattole lì l'unità di misura c'è l'altro allora devi capire la differenza tra parola e immagine e l'immagine ha un senso la parola ha un altro senso chi usa l'immagine come una parola e questo è l'errore usare l'immagine come se fosse una parola no l'immagine è immagine l'immagine è Ivo Jim che i sei marini non siano quelli veri e la bandiera sia presa dopo non me ne fotte niente è iconica è simbolo di una cosa quindi anche l'immagine può su una base etica e morale costruire è la parola così come la parola allora se però tu fai un'immagine che è una parola non racconti niente l'immagine è immagine la parola è parola la poesia è poesia il saggio è un santo tutto lì puoi passare l'immagine a Paolo Aldi oh vecchio Paolo Aldi vecchio bucaniere vecchio bucaniere possiamo dire è giusto siamo un poveretto che per i milanesi è roveretto turro sono un po' più distante questa l'hanno capita in tre sono le fermate della metropolitana dai dimmi Paolo senti no allora secondo me concordo concordo pienamente con quello che stai sostenendo Maurizio porrei l'accento un attimino sul discorso della messa in scena proprio della fotografia come messa in scena tu ne hai già parlato Ivo Gino per esempio altro però proprio il primissimo esempio lo prendo lì di messa in scena lo troviamo nelle fotografie del 1871 della Comune di Parigi in cui prima rivoluzione fotografata durante questa insurrezione però con la posa quindi le barricate lì erano con queste fotografie in posa anche perché i tempi di otturazione non consente erano troppo i fratelli a Per fanno tutta una serie di operazioni di messa in scena per raccontare una serie di avvenimenti una perché non c'erano due perché non riuscivano la fucilazione dei generali piuttosto che delle fucilazioni di Gesù e loro affermano anche loro scritti che erano delle messe in scena in cui oltre a aver fatto la messa in scena avevano preso le teste dei morti dei fucilati per ricostruire in modo veritiero a far vedere lo fermano anche poi dopo di che quando vendono i loro album ci giocano sopra ma lo fanno per vivere lo fanno per far soldi per andare a lesse lunga ogni sera ogni sera come hai detto esiste l'altro problema che a fianco c'è la quello che adesso diremo la didascalia della fotografia sul giornale cioè come sono stati raccontati a parole utilizzate per fare un racconto e quindi per far vedere quanti erano cattivi rivoluzionari con un altro problema alcuni falsi all'interno perché si sono sbagliati si sono sbagliati mettendo alcune persone che non c'erano alcuni visi allora è quando si mescolano tutte queste cose che nasce il falso che è differente dal momento in cui è stata costruita e la volontà di costruire la messa in sena perché si sovrappongono più problematiche e quindi se da una parte è un evidente messa in sena che poi magari all'epoca era difficile vedere il ritocco la sosteggione del vivo Paolo è stato l'argomento di una mostra curata da Rinaldo Capra a Brescia l'anno scorso attenzione quella è la fotografia di propaganda non era il giornalismo no infatti tanto è vero che noi celebriamo e continuiamo a celebrare disderì per la carte visite aver inventato la carte visite eccetera disderì si prestò alla propaganda fotografando i morti in quanto tali ma con una precisa intenzione un monito cioè la fotografia dei morti di disderì veniva presentata dicendo guardate se vi ribellate ancora questa è la vostra fine cioè non era giornalismo era e sulla comune di Parigi ci furono gli album soprattutto di chi aveva vinto perché poi dobbiamo ricordarci che il più grande il primo comunicato stampa della storia si chiama De Bello Gallico cioè Cesare che ci ha detto che erano dei barbari nessuno ha chiesto ai gallici cos'erano cioè non ci pensavano di essere dei barbari no? e poi Mario Puzzo ha scritto un altro comunicato stampa che si chiama il padrino che è il comunicato stampa dove la mafia diventa una cosa un conto è la propaganda quello che tu stai affrontando è la propaganda e su questo ci sta allora su questo arriviamo ai falsi il duce sul cavallo che cancellano l'uomo che tiene fermo il cavallo perché il duce deve stare a cavallo da solo cioè tutte queste altre cose no quello che è importante Paolo è il giornalismo la fotografia quando io insegno in università storia la fotografia dico la fotografia le sue date ufficiali datano all'839 per ovvi motivi anagrafici ma la fotografia così come noi la intendiamo nasce 100 anni dopo quando va sui giornali cioè i ritratti di Nadar non li conosceva neanche la sua portinaia cioè i ritratti di Nadar le aveva viste in Nadar forse il cliente e quando la fotografia va sui giornali laddove e hai ragione sulla didascalia parliamo per enfasi o invenzione una strada trafficata vista dall'alto tutte le auto incolornate uno che fa il salto di corsia dipende dalla didascalia o è un maleducato o è un indisciplinato o è un terribile o è uno che in una situazione di difficoltà deve per forza inventarsi qualcosa è la didascalia che fa la differenza no? lui o è un disgraziato o è un eroe quindi il problema è sui giornali tornando all'immagine scusa all'intelligenza artificiale il problema è che le foto apparentemente le foto di Donald Trump arrestato sono credibili tecnicamente sono credibili oggi adesso parliamo dell'intelligenza artificiale ci scandalizziamo l'altro ieri ci dovevi mettere sei giorni sei anni e farle poi con Photoshop sono diventate un giorno con l'intelligenza artificiale un quarto d'ora e allora qui che facciamo il terzo passo è che lo stupido che le guarda sullo smartphone e ci crede ma in sé sono credibili e questa è la cosa tragica che se tu accetti l'immagine come un assoluto è tutto credibile come mai e io mi domando nei film diamo per scontato che ci sono gli effetti speciali cioè è possibile quelle cose che avvengono in un film cioè come fai a riprenderle se non le hai costruite e sull'intelligenza artificiale la cosa paradossale che gli unici che si sono espressi in maniera coerente poi incoerente sono stati proprio i registi perché hanno detto che tolgono l'emozione all'attore cioè ma noi parliamo in una cinema attuale dove gli effetti speciali sono esuberanti possiamo dire esuberanti almeno esuberanti allora certo tolgono tolgono l'emozione dell'attore ma a me di vedere Elvis Presley che canta Love Me Tender a me farebbe piacere ve lo dico francamente sentire Eddie Piaf che canta Rien de Rien a me farebbe piacere poi so che non è vero ma io sento una musica vedo un'immagine e io sono emozionato a me di Tom Hanks che è più giovane di quello che è nell'anagra a me frega un cazzo so se mi sto spiegando è il giornalismo allora torniamo ai contenitori torniamo a Novella 2 in Elemonda dove io vedo le foto che tu dici della Cunis Parigi non le hai viste sui giornali le ha distribuite il governo francese i gesuiti uccisi queste storie qua la piazza della Concorda battuta la colonna battuta eccetera ma chi mi sta dicendo questa cosa allora abbassiamo i toni e ridiamo Woody Allen provaci ancora Sam qui spero che almeno ci sentiamo su prova c'è ancora Sam quando lui vive col fantasma di Henry Bogart e porta questa ragazza a casa sua sul divano Henry Bogart col soprabito cioè stereotipato dice dille che ha degli occhi bellissimi e lui guarda ma questa non se la beve ma questa non se la beve però la guarda dice hai degli occhi bellissimi e lei dice tu credi estasiata allora Woody Allen si gira verso Woody Allen e dice ci ha creduto ci ha creduto allora chi te lo dice Woody Allen il governo francese o Le Monde Le Monde The Guardian Le Post hanno guadagnato quello che dicono dopo 50 anni di vita allora il contenitore diventa il contenuto se no non ha senso però è diventato contenitore perché aveva dei contenuti 50 anni sì sì anni 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 ci ha messo anni 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 ribadisco anche qui in studio ogni tanto anni fa quale avevo più persone dicerano ah ho saputo questo io chiedevo sempre dove l'hai saputo su Novella 2000 o Le Monde cioè questa era la mia domanda perché se me l'ha detto Novella 2000 lo prendo con un anche se avevo l'amico Santi Urso che si è mancato vice direttore lo prendo con beneficio involtario se me lo dice Le Monde forse ascolto forse ricordaci forse oggi ascolto ancora? oggi gli ascolti ancora quelli chiamiamoli più importanti ciecamente no? allora come giornalismo non c'è molto c'è ancora abbastanza devi accettare i settorialismi quindi National Geographic devi accettare che veda il mondo dal suo punto di vista ma quando dicembre scorso Time Magazine pubblica le foto dell'anno a dicembre metà dicembre 22 e la foto di copertina non è l'Ucraina non è la Siria non è cosa ma è la prima foto liberalizzata del telescopio quello nuovo non l'altro James Webb telescope ecco quello decollato a dicembre 23 dicembre 21 e nel luglio 22 la NASA ha liberalizzato le foto poi quelle che non vuole farci vedere non ce lo farà vedere quando Time Magazine fa di giornalismo tra le foto dell'anno l'universo 18 miliardi 6 mila miliardi anni fa questo è il giornalismo l'Ucraina era ovvio che una foto è l'Ucraina o un'altra non cambiano è il senso cosa siamo noi nell'universo allora Time Magazine che però attenzione Time Magazine noi facciamo una leggenda Time Magazine sono 40 pagine alla settimana adesso non so come è finito Panorama e l'Espresso ma se ricordo bene erano arrivate a 200 pagine se devi riempire 200 pagine una settimana 180 sono merda questo è inevitabile cioè non puoi non farlo allora tu devi vedere chi e cosa sempre a gennaio questo come si chiama New Yorker e questo riguarda noi pubblica New Yorker un servizio un servizio dimenticato di Henry Cartier-Bresson non Triche Barossi poi ci può piacere o no un servizio di 50 anni fa l'ultimo che Cartier-Bresson fece che poi non è mai entrato nelle sue cronologie Why New Jersey commissionato eccetera eccetera ora qui vuol dire che c'è qualcuno che va a cercare che aspetta domanda quanti quotidiani settimanali italiani o hanno i foto editor o hanno le strutture o probabilmente i soldi per fare così perché questa è la domanda cioè se tu devi uscire a parte che non so nelle vostre città quante edicole avete ancora in città a Milano credo che siano tre o sbaglio le altre vendono fiori no Roberto vendono fiori no qua attorno hanno chiuso hanno chiuso sei su sette e questo è un altro discorso è il mezzo in questo senso dovreste leggere le analisi di Giuliano Lucas Lucas è bravissimo è uno di pochi saper fotografare è un conto saper raccontare fotografie è un altro e tra chi è fotografo e che sa parlare secondo me c'è solo Lucas e Tano D'Amico gli altri poi attenzione a nessun fotografo è richiesto di parlare di fotografia questo non è richiesto se lo fai lo fai in più Lucas ha una componente in più una componente diversa che ha approfondito i mezzi che usano la fotografia e i padroni dei giornali che vendono in medicole ecco questo è l'equilibrio questo è ovvio ci sono delle condizioni e delle cose Marco e Lorenzo sono Marco e Lorenzo che stanno aspettando da un po' Marco e Lorenzo chi sono? Marco Roatta siamo qua siamo qua dicci tu però c'era qualcuno che stava ancora commentando di non so se Paolo Fabrizio ah io scusate se sono invadente no io in realtà primo testimonio che non c'era proprio nessuna poesia nelle case di Ringhiera posso testimoniarlo e anche se non era a Milano era a Torino ma è uguale è uguale città operaia ecco città operaia credo che la poesia sia una diversa declinazione della ipermetropia della ricchezza no? che è quella roba che hanno che hanno identificato in tempi recenti i sociologi e cioè quella incapacità dei benestanti quindi non solo dei ricchi ma dei benestanti in generale di comprendere ciò che è di fuori della loro sfera cognitiva e quindi di comprendere di fatto la povertà e ne vediamo tanti esempi nella colpevolizzazione dei poveri della battaglia ai poveri inziché alla povertà eccetera eccetera niente era una cosa che mi tocca che mi interessa e quindi lo sottolineavo sì confermo ci sono nato e cresciuto non c'era proprio nessuna nessuna poesia detto questo invece una domanda siccome parliamo di etica e siccome parliamo giustamente di linguaggio visivo e declinato nel registro linguistico fotografico mi chiedo perché dici che la posa la costruzione della bandiera di Iwo Jima non ci interessa o meglio che sia una narrazione anzi che sia un racconto corretto nel senso che è successa la battaglia la bandiera è stata posata l'abbiamo ricostruita ma c'è una componente di propaganda c'è un pezzo di istituto luce se volessimo scherzare con 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 gli autori italiani no cioè il fatto che scelgano sei li scelgano belli il fatto che scelgano una condizione cioè la guerra fa schifo la guerra è brutta la guerra è fatta da persone normali il fatto che costruiscano quell'immagine come è giusto che sia parlare di icona e di icone e quindi la riconducano a una serie di stilemi visivi che però sono semioticamente indici di significati cognitivi diffusi nella società americana dell'epoca presumibilmente beh è un'operazione che d'accordo non è la propaganda dell'istituto luce fascista ma è comunque una forma cugina è una qualche rapporto di parentela c'è no e forse qualche adesso non certo quella foto ci mancherebbe ma quel modo di pensare quel modo di fare comunicazione visuale contribuisce insieme a tutte le altre forme di comunicazione a una certa distorsione poi cognitiva noi siamo belli l'epica della guerra e anche un po' l'epica dell'appartenenza nazionale se vuoi parlando degli americani ma in declinazione completamente diversa potremmo parlare delle unie sovietiche in declinazione diversa di altre nazioni dalla grande or francese se mi permetti faccia una nota uno Rosenthal a sociale press era lì per il suo assignment no e doveva coprire il pacifico c'era guerra in pacifico tu la foto di Roveri non l'hai mai vista vai a cercarla in internet non l'ho vista in realtà l'ho vista è banalissima adesso poi in certi momenti è quotata sul collezionismo ma questi sono altri argomenti io che raccolgo anche la storia della vita attraverso la filatelia che è un argomento che interessa a me a me siamo in due questa fotografia di Roveri viene evocata da certi paesi non dagli Stati Uniti no anche dagli Stati Uniti sono sinceri qual è il discorso? fino a una fotografia Eddie Adams l'esecuzione sommaria del presunto Viet Cong ok? io ho conosciuto Eddie Adams e lui era di destra era potremmo anche dire fascista con semplificazione lui credeva che quella fotografia avrebbe aiutato l'impegno americano in Vietnam perché il presunto Viet Cong era accusato di qualcosa eccetera eccetera ma la fotografia non lo dice mi ricordo che a cena dissi ma la fotografia dice solo che c'è un'esecuzione sommaria in mezzo alla strada tenuto conto che gli ultimi linciaggi in America con emissione di cartoline erano di due anni prima non 6.000 anni prima gli americani per quanto favorevoli statisticamente e mediamente alla come si chiama alla pena di morte almeno dopo un processo quella fotografia stabilisce un prima e un dopo prima di quella fotografia il pensiero era che la guerra apparteneva al ciclo della vita dopo quella fotografia e ha ragione quando Susan Sontag dice che arriva mentre siamo a tavola ma a cena dopo quella fotografia abbiamo scoperto che la guerra non è così pulita come nei film allora il 45 la guerra era una cosa pulitissima i giapponesi erano degli stronzi i tedeschi neanche a parlarne per cui tutta l'illustrazione a loro sfavore andava bene ma soprattutto io ribadisco un concetto fotografico la fotografia di Loveri è una bandierina messa sul monte e sui bacchi la fotografia di Rosenthal è un'icona cioè è una fotografia è una poesia è un testo è quello che vuoi gli altri in questo caso è raro attenzione ma certo che è propaganda dov'è il dubbio ma scusate Rosenthal perché arriva sul monte sui bacchi arriva sul monte sui bacchi accompagnato dai marini dove la guerra cambia il suo ritmo in fotografia in Vietnam fino alla guerra di Corea i fotografi erano insieme all'esercito e col Vietnam tanto è vero che ne sono morti i 60 erotti in seconda guerra mondiale in Corea non ne sono morti cioè con la guerra di Vietnam i giornali acquisiscono l'informazione fino alla guerra in Corea il governo gestisce c'era una vignetta grottesca riferita a Desert Storm mi pare che fosse il generale Powell il nero comandante una vignetta su cuore certo il giornale di parte dove Powell non permetteva ai giornalisti di partecipare alla giornata ma la sera raccontava e la vignetta è che Powell è davanti a una cartina in cui spiega l'operazione della giornata e per indicare la cartina c'è il naso di Pinocchio con il naso di Pinocchio dice eravamo qui abbiamo fatto così allora il problema è questo fino alla guerra di Corea erano gli eserciti che gestivano la presenza di fotografi e in più che assignment in più che embedded dalla guerra in Vietnam è cambiato tutto quella di intendo dire questo in parafrasi non possiamo criticare che una volta si fumasse nei bar la mentalità di adesso la mentalità di adesso è che io sono un tabaggista e entrassi in un bar in cui fumano sarei infastidito cioè il passato va valutato contestualizzato che era no no ma intuisco di non essere mi espresso no no la fotografia io insisto è eccezionale in termini formali i contenuti io contesto questo cioè contesto quantomeno cercherei di mi piacerebbe provare ad espandere un pochino il concetto allora vuoi sapere non il dato storico attenzione perché come giustamente dici tu va contestualizzato tu sei ti chiami scusa Marco Marco noi abbiamo in Italia bollato Clint Eastwood di essere di destra giusto come regista non ho capito perché è un Clint Eastwood ah ok sì è un repubblicano dichiarato a me anche se la destra americana è un po' diversa certo certo è la stessa faccia della stessa medaglia a parte che certi film di Clint Eastwood Million Dollar Baby Gran Torino eccetera vorremmo averli fatti noi allora Clint Eastwood ha girato due film simultaneamente a Iwo Jima uno è come si chiama Flagst of Our Father sì a bandiera dei nostri padri dalla biografia del figlio di uno dei sei l'altro che è eccezionale spero che l'abbiate visto è Lettera di Iwo Jima certo Lettera di Iwo Jima è scritto sceneggiato sulle lettere ritrovate del generale Kui Bayashi il non cioè Flagst of Our Father gli americani che arrivano in Iwo Jima Lettera di Iwo Jima i giapponesi che aspettano gli americani Kui Bayashi nel gennaio 45 scrive all'imperatore giapponese premesso che nessuno aveva mai visto sentito avrebbero sentito la sua voce nell'agosto quando la radio ha dichiarato la resa un generale che scrive al suo imperatore nel gennaio 45 dice siamo in non mi ricordo siamo in mille loro in centomila difenderemo l'isola fino alla morte ma non mi venga a raccontare che c'è qualcosa di nobile nel morire per la patria però dice però sono qui e lo faccio Lettera di Iwo Jima fatto da Clint Eastwood recentemente è una celebrazione dell'eroismo dei giapponesi che è diverso da Flagstaff a Fada ed è molto più bello come film parentesi ma questo è un giudizio soggettivo Lorenzo Lorenzo Pennati Lorenzo Pennati faccio una domanda e pongo un caso ipotetico mi sentite? sì ci sono momenti della storia recente e non e non di cui abbiamo scarsità di immagini ne cito qualcuno la caduta dell'elicottero di Kobe Bryant Bill Laden stesso abbiamo piccoli casi se domani l'intelligenza artificiale dovesse essere in grado di ricostruire quel momento sia come raffigurazione o come rappresentazione perché su questo non so come può andare ad agire l'intelligenza artificiale nella ricostruzione di quell'immagine di quel momento come potremmo interpretarla visto che fino adesso c'era dietro in Iwo Jima delle persone che vanno a scegliere in questo caso qua come dovremmo interpretare come dicono gli ascolti della radio la mia opinione è allo stesso modo in cui con altri mezzi altri tempi accettavamo le tavole di Beltrame ok tu le è presente la copertina domenica il corriere a parte che loro erano di profilo più basso il cane che salva il bambino cioè cronaca piccola e il cane che salva il bambino se guardi in qualche copertina che trovi nei mercatini o negli annuari il cane è sempre un bel cane come minimo un lupo un colli e il bambino un bel bambino magari nella realtà era un cane bastardino eccetera non dobbiamo prendere così sono delle illustrazioni non dobbiamo più accettare il concetto di fotografia come realtà ma fotografia come documento in certi casi fotografia come illustrazioni in altri io non trovo scandaloso vedere l'ipote è come guardi un film voi l'avete visto mi spiace che vi cito dei film La Vie en Rose La vita di Edie Piaf io non so se Edie Piaf era così a parte che oggi i trucchi eccetera sono particolari no? Io appassionato di Simenon ho ancora i DVD di Megret Gino Cervi qualcuno se li ricorda? Sì ecco a parte che Simenon considerava Gino Cervi il più bel Megret ma comunque Megret di Gino Cervi Megret con Gino Cervi della Rai a parte che lo sceneggiatore lo sceneggiatore era Camilleri mangia le michette a tavola mangia le michette c'è una rosetta c'è a Parigi lui mangia una rosetta quindi cure scenografiche zero oggi le cure scenografiche sono altre prendiamole come le illustrazioni la vita di Eddie Piaf lei che all'ultimo concerto dell'Olimpia piegata in due un'attrice che nella vita è bellissima lì non so come l'hanno conciata da buttare via arriva sul palco e ha difficoltà alza il braccio per dare il comando al maestro d'orchestra e il maestro inizia e lei inizia a cantare Rien der Rien è emozionante non esiste un filmato di lei che canta Rien der Rien in quel momento in quella fase ma vederlo così mi piace Richard Dreyfus in un film in cui canta per suo figlio sordomuto cantando Beautiful Boy di John Lennon accompagnandolo con la gestualità con i segni dei sordomuti mi fa emozione non è vero lo accetto il contesto non mi fare lo scoop dicendo abbiamo ritrovato la foto di Bin Laden ecco non mi fare lo scoop non me ne frega cioè non ne hai bisogno e poi nessuna galleria te lo compra perché non c'è la certificazione d'autore per cui anche il business non esiste l'illustrazione mi sta bene quanti quadri abbiamo visto delle battaglie del passato certo Napoleone però attenzione ricordiamoci che c'è una differenza tra la fotografia e la pittura qualcuno ci racconta chi è la Mona Lisa ci dicono la Gioconda con la Mona Lisa di Leonardo in fotografia l'autore non c'è mai c'è il momento c'è il soggetto voi parlate con un amico la foto di Nikut l'esecuzione la foto scusate Nikut la bambina Napalm Eddie Adams eccetera le foto le ricordano l'autore no in arte non ricordi il soggetto ricordi l'autore e questo vuol dire molto vuol dire che il soggetto in fotografia avanza rispetto a chi l'ha realizzato grazie e a gratis tutto questo Roberto non c'è un sovrapprezzo ma la fotografia ragazzi è meravigliosa perché ci consente tante di quelle considerazioni pareti molti plausibili non tutte è bello ragionare purtroppo qui abbiamo questo strumento che è grottesco mi auguro che voi abbiate un molto simile al mio con delle faccette ma vi immaginate Roberto poi geograficamente non è realizzato ma vi immaginate trovarci venti che siamo in un locale a chiacchierare cosa ne esce quante opinioni cosa ne esce ma non è bello questo la fotografia è meravigliosa e magica per questo tecnicamente è una somma è una combinazione di regole logiche e usi arbitrari ideologicamente è fonte di straordinaria eccezionale riflessione tutti noi abbiamo un'opinione sulla fotografia e non appartiene al vostro quotidiano né al mio grazie al quale andiamo all'esce lunga cioè non è che con queste battute di stasera Paolo Aldi adesso va Aldi non c'hai quel grande magazzino Aldi dalle vostre parti no? non è che Paolo Aldi va all'esce lunga e gli dice ho discorso in fotografia e gli fanno lo scontrino no ma vi immaginate ma immaginate avete capito che bello è parlare e tutti noi abbiamo almeno venti esperienze diverse venti punti di vista e nessuno di quali è migliore o più determinante dell'altro l'unica differenza tra il mio e il vostro se proprio vogliamo andare è che non c'è un cazzo altro da fare nella vita per cui per me è un ma ragazzi ma immaginate quanti pensieri ci fa venire la fotografia indipendentemente dallo svolgerlo per mangiare per fare un fatturato per aggiungere l'iva è successo un casino qua no no non è un casino è un oggetto sì cosa devo fare? niente vedere qual è la proiezione vera non lo so anche perché visto da una parte è quadrato visto da questa parte triangolare visto da qua è rotondo sono tutte verità sì dipende da dipende da Euclide dipende da cosa ne pensa Euclide ma ecco cos'è il meraviglioso e dovete ringraziare secondo me Tomesani Tauvido ma vi rendete conto che abbiamo potuto scambiare opinioni cioè questo è quantificabile certo in termini del prestinaio no ma noi siamo o non siamo tutti più belli di un'ora fa guarda che bellezza sì nel caso di Tomesani mio è un dettaglio secondario a vi rendete conto che grazie alla fotografia parliamo quali argomenti ci consentono di parlare la politica seguire la politica della televisione e seguire il calcio è diventato uguale per seguire il calcio basta la mattina leggere il titolo della gazzetta dello sport da lì in poi per tutto il giorno sei un esperto in tutti i bar che entri basta il titolo e non cosa è successo basta il titolo per raccontare e nella politica è diventato uguale cazzo noi abbiamo una materia che ci offre di quelle riflessioni di quei momenti e di quell'umanità vogliamo dirci lo siamo dei privilegiati e di questo vogliamo essere grati non siamo pensa che stiamo parlando di quello che è il nostro lavoro di quello che no è quello che dovrebbe essere la base la base è il nostro lavoro ok veramente fortunati siamo fortunati oltre che privilegiati Roberto va bene così? io un po' sono anche affamato va bene se vuoi offrirmi una cena sono qua però siamo distanti nonostante siamo milanesi Roberto organizza 20 amici al bar se vuoi 20 amici al bar oh guarda geograficamente quale sarebbe geograficamente l'Emilia o la Toscana no? cominciamo a concluire no? si possono si possono ricominciare le 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 che sono in tutte una centralità o Emilia o Emilia non in questi giorni ma o Toscana cioè la centralità è solo da compasso no? da geometria Paolo Aldi mi fa piacere averti rivisto Fiorenzo Calosso mi fa spiacere non averti rivisto perché non compari ma ci sei guarda che Fiorenzo Calosso scrive in chat ci sono e come e ma e non fa rumore non fa rumore però è di alba però è di alba e questo non può negarlo fanciulli va bene? grazie tantissimo io ringrazio voi di aver ascoltato queste frenesie grazie apriamo i microfoni chi ha un microfono grazie mille grazie Maurizio grazie grazie mille grazie 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 a presto grazie a tutti ciao grazie